Come vado in Corea? Quanto costa il biglietto? Dove cambio i soldi? Posso usare la carta? Come faccio il visto? Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia e oggi cercherò di rispondere alle classiche domande prima di andare in Corea o di tutti quelli che vogliono andare in Corea. Se non siete iscritti al canale vi invito a farlo, lasciando un mi piace a questo video aiutate il canale a crescere. Se guardate gli altri, condividete e interagite, è anche utile per la crescita del mio canale, soprattutto per la vostra crescita, per imparare più informazioni e di più sulla Corea del Sud anche a livello culturale, storico, sociale. Tornando al video di oggi, queste domande sembreranno banali, a molte ho già risposto nell'arco degli anni nei miei video ma magari oggi cerco di fare un unico video in cui raggruppo un po' più di spiegazioni. Fermo restando che poi tutto dipende da voi. Siete voi che decidete il come, il quando, il perché. Poi è ovvio che dovete seguire un interburocratico, che non è impossibile, è un po' seccante, sì, però va fatto. Volete andare in Corea? E allora, fighting! Banalmente molti di voi pensano che basti chiamare l'ambasciata e dire voglio andare in Corea, fammi il visto, ma se molte volte l'ambasciata non risponde più al telefono oppure non vi risponde più è perché, appunto, non vogliono perdere tempo, perché l'ambasciata lavora le pratiche, non sono lì per trovarvi la scuola, per trovarvi i corsi, quelle sono cose che dovete fare voi. Come si trovano i corsi? E soprattutto, è meglio andare da turista o con i corsi? Ecco, per andare in Corea avete diverse modalità. Turismo, studio, lavoro e poi ci sono partnership, scambi, insomma, matrimonio, quelle sono situazioni un po' più complesse. Il modo più facile per andare in Corea è da turisti o da studenti. Il tutto richiede, ovviamente, soldi, una base economica e, per quanto riguarda il viaggio, dovete compilare online una nuova scheda, diciamo, che è un nuovo form che si chiama Keta e lo trovate online e riguarda una bozza del vostro viaggio, del motivo per il quale volete andare, le vostre informazioni e lì, eventualmente, l'immigrazione fa uno screening per vedere se ci sono dei problemi con la vostra figura, anche nei sistemi, eventualmente, coreani, se siete già stati in Corea, però tendenzialmente è un po' più una cosa per far pagare una tassa in più ad alcuni paesi, per alcuni paesi è gratis, e un mini controllo per avere idea di chi sta arrivando prima ancora che entri. Qualcuno potrà pensare che ci vogliono controllare, qualcuno si sentirà controllato e funziona così. Quando siete in Corea, fidatevi che siete controllati su tutto, che è anche normale arrivare ad un certo punto in questa società. Quindi, in questo periodo di pandemia, nel 2022, potete essere plurivaccinati, radioattivi, quello che vi pare, guariti, dovete fare assolutamente la quarantena e in questo momento è almeno 7 giorni, che è un grande miglioramento considerando che fino a poco tempo fa erano 15, poi 10 e adesso sono 7. Questi giorni li dovete fare a vostre spese in una struttura governativa o in una struttura che trovate voi, anche lì vi dovete arrangiare da soli, contattando degli host, delle Airbnb, degli hotel, insomma. Molte delle cose le dovete fare voi, ed è ovvio che se veramente volete andare in Corea, dovete essere voi i padroni della vostra volontà, del vostro viaggio, non è che potete aspettarvi che gli altri facciano le cose per voi. Sembrerà banale anche questo, però a quanto pare non lo è, perché molti chiedono e aspettano aiuto da altri quando siete voi i protagonisti del vostro viaggio. Per quanto riguarda i vestiti di studio, ci sono diverse categorie. O il classico corso di coreano, presso una scuola, un'università, un corso di lingua coreana in Corea, oppure di scambio tramite l'università che magari già frequentate, e lì potete chiedere alla vostra università se ha delle partnership, oppure dovete trovare sempre un corso che vi interessa, per tempo, e si parla di 6-7 mesi prima, contattare l'università in questione, e appunto organizzarvi, chiedere se ci sono delle borse, se ci sono dei corsi, e chiedere le modalità per parteciparvi. E poi da lì vi verrà fatto tutto un iter di selezione, richieste di documenti, e poi nel mesetto e mezzo prima di partire avrete tipo il rush finale, dove dovete presentare più documenti anche tramite l'ambasciata, e generalmente funziona così che tutto all'ultimo è racchiuso, è anche un modo per, secondo me, scremare le persone. Quindi il modo più semplice è viaggio, perché fate quello che vi pare, e potete stare a un massimo di 90 giorni, oppure corso di coreano, che ovviamente ha le sue spese, costa, se andate a Seoul costerà tutto il triplo di quanto costa in una città più piccola, poi dipende da quanto è intensivo il corso o meno, eventualmente dovete pagare il dormitorio o arraggiarvi sempre da soli, e anche lì, molte delle informazioni le trovate sui siti universitari che vi interessano, avranno anche l'inglese, se non sapete l'inglese, non sapete il coreano, e allora c'è qualcosa che dovete iniziare a fare prima di partire. Una volta individuata la scuola, controllate il sito, eventualmente contattate l'ufficio, e vi verrà chiesto, in linea di massima, un documento che sia il diploma, sia un corso di coreano, se invece si tratta di un master o di una magistrale, insomma, dovete avere quantomeno una trenale in Italia, quindi lì dovete apostillare la laurea, se fate solamente il corso di lingua coreana, basta apostillare anche il diploma. Come si apostilla il diploma? Dovete andare in prefettura, nella vostra regione, prendere un appuntamento, comunque andare in prefettura, e pagare un paio di marchi d'abbollo, e vi viene rilasciata la postilla. Questi documenti, generalmente in Italia, vengono rilasciati in, a dire la postilla, il diploma, la laurea, avranno o la traduzione in inglese, o magari in più lingue, in francese, spagnolo, insomma. Generalmente in Corea, una volta che ha apostillato il documento, diverse scuole lo accettano anche in inglese, purché si capisca che è originale. In altri casi dovete tradurre il tutto in coreano, e anche lì poi vi dovete arrangiare da soli e cercare informazioni a parte, non chiedetelo a me. Quando voi apostillate i documenti, generalmente dovete inviare alla scuola il vostro passaporto, la copia, ovviamente, la fotocopia, il documento apostillato, e il vostro estratto conto, che sia, diciamo, tracciabile a voi o ai vostri genitori, e in tal caso magari vi conviene anche allegare un certificato di, diciamo, parentera, che anche quello si richiede al comune e viene rilasciato in più lingue, c'è anche l'inglese, e un'altra serie di documenti, tra cui la fedina penale, per dimostrare che non avete precedenti penali e denunce. Insomma, ci sono una serie di documenti che vi vengono chiesti dall'università. Voi inviate il tutto a vostre spese con la posta privata, che magari vi costa anche 170-150 euro per 200 grammi di busta, e una volta che l'università la riceve o la scuola riceve, controllerà il tutto. Se tutto va bene, allora vi manderanno dietro la lettera d'invito e, diciamo, la SouthJatNukJung, che sarebbe una partita IVA, il loro certificato di associazione, che sono un ente, che paga le tasse, eccetera, e voi vi ripresentate in ambasciata d'Italia, di Corea in Italia, con l'appuntamento, riportando nuovamente estratto conto, fedina penale, apostilla del diploma, della laurea, certificato di parentela, eccetera, e quindi è la lettera d'invito, è l'università, è il certificato, insomma, documenti più, documenti meno, c'è tutto scritto su internet, nei siti dell'università, nei siti dell'ambasciata, non vi potete sbagliare, e lì parte l'iter. generalmente nell'arco di 2-3 settimane vi lavorano la pratica, vi viene anche chiesto spesso di comprare il biglietto prima di partire, ovviamente non fate il biglietto dopo due giorni, dovete farlo a distanza di 1-3 settimane, 3 e mezzo prima della presentazione dei vostri documenti in ambasciata, perché funziona così. E quindi, una volta superati questi periodi di ansia, voi riuscite ad andare in Corea. Poi ovviamente lì vi tocca spendere soldi per mantenervi, se avete una borsa di studio, se è un corso universitario, vi verrà chiesto di avere un budget prima di partire. Per i corsi di coreano varia tra i 5-8 mila euro, per le magistrali sono anche tra i 12-15 o 20 mila euro che dovete dimostrare di avere. Ma se ce l'ha il vostro genitore, per dire appunto mettete l'estratto conto del genitore. Quindi quando voi vedete il famoso bank statement, non si tratta altro che di un di un estratto conto che dovete richiedere in banca ovviamente. Quindi queste sono le modalità. Cosa dovete fare? Cercare la scuola, cercare il corso, prepararvi psicologicamente anche a livello pecuniario perché è tutto a un prezzo. E l'aereo? Quanto costa l'aereo? L'aereo varia. L'aereo dipende dalla compagnia, se fate scalo, se è diretto, ma generalmente va dai 450 euro agli 800 a tratta. In alcuni casi con 800-900 euro fate un biglietto andato e ritorno. Dipende molto dalla compagnia. Anche lì poi ci sono le promozioni, eccetera. Dove potete cambiare soldi? In aeroporto. O andate in banca e li cambiate in Italia in banca o andate in aeroporto. Ovviamente vi verranno applicate delle commissioni in base al giorno, al cambio della valuta, in base a dove andate a cambiarli può costare di più o di meno. Per quanto riguarda l'utilizzo della carta, in Corea viene accettato il circuito Mastercard e Visa. Anche se alcune volte ci sono dei problemi con i POS coreani. Nel mio caso utilizzavo la Postepay Evolution e riuscivo a prelevare diverse banche o alle poste. In alcuni ATM funzionava, in altri no. Ci sono anche quelle dei convenience store. In alcuni ATM prendevano poco più di euro di commissione, in altri un po' di più. E poi se state a lungo termine vi verrà anche chiesto di creare un conto bancario in Corea ed eventualmente poi lì si facilitano tutte le cose. Come si prende il telefono in Corea e anche lì molte cose cambiano. Alcune cose le potete prenotare tramite prepartenza nell'aeroporto eccetera con le SIM prepagate. Altri tipi di contratti telefonici li potete fare una volta che avete il permesso di soggiorno. Per comprare online e per utilizzare molti servizi coreani vi servirà una carta entità coreana e il numero di telefono coreano. Ma quelle sono cose che poi dovrete fare di volta in volta se state più di sei mesi perché se state poco tempo non è necessario avere una residence card prima si chiamava alien card. In coreano è la Weigugin Toonukjung. Quindi come fate ad andare in Corea? Dipende da voi. Quanto costa? Dipende dal vostro denore di vita. Sappiate che mangiare e bere non è regalato. Se avete le euro magari c'è un po' più di potere d'acquisto ma non aspettatevi di andare in un paese del terzo mondo. La Corea è abbastanza costosa quanto l'Italia quindi siete preparati ad avere una spesa non indifferente. Se già siete fuori sede in Italia considerando che comunque spendete già da fuori sede tendenzialmente andete a spendere una cifra simile con la differenza che siete all'estero quindi vale quasi a tutto vale l'esperienza. È ovvio che dovete chiedere un sacrificio ai vostri genitori o a voi stessi se siete lavoratori part time insomma nulla è regalato però soprattutto la cosa principale è che l'ambasciata non sta lì col tappeto rosso a dire si ti faccio il visto dovete voi preparare tutto quanto ci sono tutte le informazioni su internet quindi siete voi che dovete cercare non aspettate altri non pensate che ve le fanno le altre cose se qualcuno si propone di farvelo sappiate che anche queste informazioni che vi do probabilmente vi chiederanno soldi prima o poi insomma come vado in Corea dipende da te inizia ad aprire gli occhi leggi più informazioni iscriviti al canale guarda più video così imparerai a come capire come funziona la Corea come si vive in Corea e probabilmente troverai molte informazioni utili che non sono solamente drama kpop ragazzi coreani che avranno la loro importanza ma prima di tutto voi i vostri soldi la vostra salute mentale psicologica la vostra istruzione e l'eventuale amore per la Corea che deve appunto sbattere con la realtà e quindi dovete conoscere il posto per saperlo apprezzare di più spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere come mi piace lasciatemi dei commenti i siti sono universitari e dell'ambasciata e del governo coreano cercate iniziate a smanettare perché poi quando arrivate là dovete fare queste cose anche in coreano perciò dovete essere pronti a combattere per altre informazioni sulla Corea trovate altre informazioni poi in generale potete taggare amici potete fare anche qualche domanda un po' più basilare su altre cose magari ci sono già dei video che ho fatti ve li mostro insomma fatemi sapere cosa ne pensate del video un saluto e alla prossima ciao 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 ciao